Signore e signore, ecco a voi la nostra ballerina Alice Perini! Brava! Bravissima! Brava! Sbagliatevi? No, io voglio prima bacino. Mi faccio prendere i denti! Mamma, se faccio prendere i denti! Va bene, vi presento. Torniamo sul palcoscenico. Signore e signore, ecco a voi Alice Perini e l'orso Yogi! Bravi! 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 Balliamo? L'orso balla! Ehi, papà! E' papà! E' papà! Pappà! E' papà! E seballiamo? Vedo uno, vedo l'altro. Passati un po', Paolo! la ballerina col suo orso Yogi la 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 tanto non si fredda niente la 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 adesso il papà il papà va a mangiare la papà 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 diciamo al pubblico vai là a dire ciao al pubblico che poi lo spegniamo ciao al pubblico fai l'inchino fai l'inchino vabbè